Buongiorno, buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. L'ipnosi DCS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi ragazzi rispondo ad un signore che mi chiede, che mi fa delle domande sul pessimismo distruttivo. Se esiste un Audi MP3 personalizzato per il pessimismo distruttivo. Naturalmente realizziamo l'associazione Iprologi Associati, il sottoscritto degli Audi MP3 DCS su richiesta che però non sono accessibili a tutti per vari motivi. Ci ho detto che per eliminare il pessimismo distruttivo puoi usare, come ha fatto questo signore, no depressione, molto controllo dei nervi, no stress ed eco entusiasmo. Poi se vuoi fare dulcis in fondo puoi scaricarti no passato negativo e no ansia, no panico. Se li metti tutti insieme, segui le istruzioni della lettera, tu veramente ti trasformerai da pessimista in un ottimista costruttivo, senza senso e senza ma. Ecco cosa succede alla mente. Allora perché una persona è pessimista, vede tutto nero e vuole distruggere tutto e tutti? Perché da piccolina e da piccolino sicuramente nel nostro subcosciente sono entrate quelle immagini di qualcuno, mamma, papà, parenti, amici, il terzo genitore che è la TV. E naturalmente nel corso della nostra vita sono state rafforzate, sottolineate, evidenziate dalla nostra ripetizione H24 che è diventata radice, convinzione, come le radici della quercia che arrivano fino alle viscere della terra, del nostro subcosciente. Che cosa fare per uscirsene? Primo, eliminare tutte le situazioni negative e pessimiste, eliminare la TV, soprattutto la TV pessimista e negativa che ti mostra una parte della vita, perché siamo tutti di passaggio ragazzi, non è che qualcuno rimane su questa terra, ci ho detto non vuol dire che per il fatto di essere di passaggio dobbiamo pensare tutto male o tutto brutto, tutto negativo, tutto pessimista. Per cui, terza cosa, allontanare chi parla in maniera pessimista, avvicinare delle persone, eliminare i famosi vampiri di energia. Poi se vuoi accelerare il tutto ti scarichi un audio mp3 di CS oppure più audio mp3 di CS, come ad esempio, no depressione, no stress, molto controllo dei nervi, ego entusiasmo che ti dà un'energia incredibile, poi no passato negativo e no ansia, no panico. E ti posso garantire che la tua vita cambierà, 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 se, solo se, seguirai alla lettera, l'istruzione, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota, in più il metodo di CS, l'ipnosi di CS, con la V maiuscola non ti ruba tempo, non ti impegna, non chiede il tuo prezioso tempo né quello del tuo caro, perché funziona anche per chi non vuole il tuo aiuto, per cui che ti importa, seguire alla lettera, l'istruzione è molto facile, la prova di un nonno, la prova di un pigro, la prova di un idiota. Tantissime persone, centinaia e centinaia di persone nel mondo hanno eliminato questo modo di vedere la vita, questo pessimismo che vuole soltanto distruggere questa, diciamo, tra virgolette, rabbia interiore che si trasforma proprio in qualcosa di negativo, continuando, gutta, cavat, lapidem, con gli audio di CS, di ipnosi di CS vera e professionale, anche senza le sessioni online con il sottoscritto che al momento sono sospese di ipnosi di CS vera e professionale, soprattutto su Skype, ma anche su altre app in qualsiasi parte del mondo in cui risiedi, per cui io ti sto dando una mano per risparmiare un botto di soldi, oppure se proprio non ce la fai puoi anche sederti presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona e iniziare un percorso, però ti posso garantire che con l'ipnosi vera e professionale tu elimini, cancelli, spegni e fast, dicono in Francia, il tuo pessimismo distruttivo. Fammi tutte le domande del caso, non ti arrendere, non hai bisogno né di audio mp3 di CS personalizzati al momento, prendi quelli standard che sono molto potenti, naturali e senza nessun effetto collaterale, perché l'ipnosi di CS non ha nulla a che vedere con l'ipnosi da spettacolo, l'ipnosi fuffa, l'ipnosi paura, l'ipnosi da firma e neanche con la stessa ipnosi conformista e commerciale, pur ottima, di Milton Eriks, Brian Weiss e Develma, ok? Zero secondi, zero secondi del tuo tempo per risolvere il tuo problema. Visita il sito internet www.ipnologiassociati.com, visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, avuti ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti, perché puoi essere quel qui della molla famosa che ti cambia la vita del tuo caro, anche se non vuole il tuo aiuto, non può avere il tuo aiuto. E seguimi anche su Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. Un bacio e un abbraccio da questa giornata soleggiata che distrugge il pessimismo distruttivo, aggiungo questa chicca, anche a metterti al sole, a camminare guardando il sole negli occhi o il cielo, è un'altra tecnica per eliminare il tuo pessimismo distruttivo. Fidati, funziona.